La regola di cui vi parlo questa volta, quando mi capitava di presentarla a questa regola alle conferenze, era quella più buffa di tutte. La regola è evitare i diminutivi. E dicevo, evita i diminutivi perché sennò può capitarti qualche brutta sorpresa. Per esempio, tu preso da tenerezza per il desiderio a cui stai fantasticando, scrivi Io voglio una bella casettina in riva al mare. E poi magari si realizza la lettera. Cioè, qualche giorno dopo cammini sulla spiaggia e trovi una casettina di plastica bella sulla riva del mare realizzato. Oppure, io voglio un fidanzatino. E poi magari ti capita un corteggiatore di bassa statura. Risate, battutine, eccetera. Ma il significato di questa regola, evitare i diminutivi, era più ampio, più profondo. Sappi che noi tutti, per quanto possiamo essere audaci, ambiziosi, appassionati, nello scrivere il quaderno dei desideri, noi diminuiamo sempre l'entità di quello che scriviamo. Sempre diminuiamo i desideri. Siamo sempre compulsivamente modesti. Senza ragione. Perché non è che fai più fatica a chiedere un grattacielo invece che un appartamentino. Sì, forse fai più fatica muscolare per questi muscoli qua. Perché se ti piace un grattacielo fai un largo sorriso, cioè i muscoli fanno uno sforzo maggiore, che se fai il mezzo sorrisettino dell'appartamentino. Anzi, anzi, fai più fatica a diminuire i desideri che non a diminuirli. Perché? Perché è un lavoro. Ti ricordi come è, no? Cioè l'impulso che parte. Il pulso. E tu dovresti essere così veloce da scrivere i desideri proprio subito sull'impulso. Invece lasci passare il tempo. In quel tempo interviene tutta una serie di resistenze, di processi, eccetera, che ti ridimensiona i desideri, lo riduce, lo aggiusta, lo lima, lo smette, lo divide in pezzettini, se ne sono i più piccoli, le toglie una serie. Ecco, e te lo rovina. Quello lì è un lavoro, eh. Quello è un lavoro. Un lavoro di freno delle emozioni. Se ne rovina delle emozioni, costa fatica. È un lavoro di censura. È faticoso. Perché facciamo questa fatica di diminuire i desideri? Perché? Te lo dico io perché. Per il bisogno di approvazione. È un riflesso condizionato. Cioè ti hanno insegnato chissà quando che se tu stai basso, gli altri ti approvano. Invece se tu esageri nelle richieste, gli altri ci restano un po' male intorno. Te lo hai imparato chissà quanti anni fa, è rimasto, tac, fissato nella sala di comando dei tuoi comportamenti. A provarsi, farsi approvare da chi, tra l'altro. E chi lo sa? In fin dei conti neanche tu lo sai. Per lo più, la maggior parte delle persone da cui ti puoi fare approvare diminuendo i tuoi desideri sono persone del passato. Di anni e anni fa. Sono fantasmi. Magari sono persone che vivono ancora, ma adesso sono diverse da prima. Tu volevi l'approvazione di quelli là. Chi? Non so. Genitori, compagni di classe, amichetti di allora, no? Che poi magari te li rivedi, li riproietti intorno sulle tue autorità attuali, in cui vedi il papà o la mamma, oppure sulle persone che frequenti, in cui vedi, proietti, le situazioni che avevi a 12 anni, alle medie, o anche prima, no? Che si ripetono, no? I traumi tendono a ripetersi, no? E vuoi l'approvazione loro di adesso, come volevi allora l'approvazione di quelli là, perché da ragazzini era importante farsi accettare. Eh, se uno non si fa accettare da ragazzino è escluso, eh? Se la passa male. Lì ti è venuta l'abitudine a farti approvare. Solo che adesso è come chiedere l'approvazione veramente di fantasmi. Questo. E dicendolo ancora più chiaro, con maggiore precisione, nel nostro linguaggio speciale, tu vuoi farti approvare, se diminuisci i desideri, tu vuoi farti approvare dal tuo attrattore e da tutti quelli che ai tuoi occhi rappresentano l'attrattore. Vuoi che l'attrattore non si arrabbi con te? Ma l'attrattore, mentre tu scrivi i desideri, non ha motivo di arrabbiarsi, perché tu non stai ancora aprendo un conflitto con l'attrattore. Non stai ancora aprendo. Stai solo scrivendo su un quadernetto delle frasettine. Niente di che. Per il resto vivi tranquilla, fai quello che c'è di sempre, aspetti, ogni tanto sei un po' soprapensibile, io, ma io dico che. Cioè l'attrattore non ha da dirti niente. Tu non devi fare niente di particolare, se non scrivere. Qualcos'altro fa. Qualcos'altro di più grande del tuo attrattore. Ecco, l'attrattore lascia che se osa se la prenda con quel qualcosa di più grande, ma non con te. Non fatti approvare, se riesci. perché dico se riesci. Ci vuole un po' di allenamento. Cioè adesso se tu oggi rileggi, oggi, domani, dopo domani, rileggi dai una scorsa ai desideri che hai già scritto, è molto probabile che se ti ricordi quello che ti sto dicendo qualcuno lo cancelli perché dici no, questo qui è troppo piccolo. Questo qui è un diminutivo. Non sono lasciato scappare. Beh, niente, niente di male. Li correggi, li aumenti, ci metti un aumentativo e procedi verso altri orizzonti desiderabili. Prova. A tra poco. 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 a tra poco.